ciao a tutti benvenuti al mio canale vi faccio vedere un altro miracolo abbiamo quattro re dal dorso blu ok 4 dal dorso blu e 4 dal dorso rosso ok adesso cosa faccio quattro re e quattro re guarda adesso prendo così vado a mostrare i re molto visibilmente eccoli qua 4 re che prendo così e poso qua qua abbiamo quelli rossi ok ora guardi i re rossi li prendo li poso qua adesso ti faccio vedere un miracolo guarda io prendo i re blu e andrò a fare a cambiarli con gli altri re ok guarda 1 2 3 4 primo re guarda quando io prendo così visibilmente re di fiori guarda dorso blu io prendo così ma semplicemente che lo sfrega un attimo che così che la carta incredibilmente diventa rosso ok incredibile ok guarda vado a cambiare l'altra carta guarda re di quale ora mi posso leggendo il gesto magico che il re di quale diventa rosso adesso vado a trasformare un altro rosso carta blu guarda un passo in gente un gesto magico che abbiamo altre due carte rosso guarda ma se io prendo il tasto del reset incredibilmente qualche cosa succede le carte tornano 1 2 3 e 4 carte blu incredibile le carte rosse sono sempre state qua 1 2 3 e 4 grazie 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 grazie